Musica Buongiorno Oggi è sabato mattina Come nello soccorso vlog Faccio vlog solo di sabato Musica 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 C'è questa crema di nocciole Che è veramente buona E' fatta con la soia ovviamente E va la soia vegetale E sa di nutella Non sento tanto la differenza E' buonissima e non fa venire i brufoli E' una manna dal cielo Ultimamente l'ho scoperta perchè stiamo prendendo tutte le cose di soia Praticamente ho già finito un barattolo E niente, oggi è colazione così Dopo questa esilarante dimostrazione Della mia colazione wow Io la metto qua perchè non si sa mai Magari mi inviano pacchi di crema alle nocciole Di Valsoia Ti prego sì Sto aspettando due mie amiche E una delle due E' quella di cui parlavo nell'altro vlog Che non stava bene E quindi non c'eravamo potute vedere E verrà oggi Sono ancora un po' in coma dopo ieri sera Sinceramente No ma raga ma Sono sporca di usa Spero di riprendermi nel corso della giornata Molto bene Sembro tipo Non lo so Cioè Illuminata dalla Vergine Maria Vorrei tentare di fare una doccia adesso Anche se comunque dovrebbero arrivare tipo tra due minuti E non ce la farò mai Quindi sono molto indecisa Swish Tante credo siano arrivate Pronto Bene noi siamo pronti per pensare In sottofondo c'è l'apo che sta cercando di Togliere la pizza Ma mia è una focaccia Lei invece ha preso la focaccia E sta più curva Perché non sta male Ecco E niente Non è come al solito Non si misi l'aglio Ma già noi abbiamo deciso di guardare questo dvd Dove ci stiamo praticamente Perci sempre noi La pizza è ghiacciata Regolpare Siamo cariche per mangiare Abbiamo già preso la pizza E siamo pronte per vedere il dvd di Mingoni Ciao ragazzi Eccoci Non lo dimenticherò Solo controvento Ricomincerò Eravamo davvero felici con poco E tu resti alla porta Con l'amore che resta Siamo pronte per uscire E quindi dove stiamo andando adesso? Andiamo a vedere i giocatori della Roma Che tanto piacciono alla Marta Però il mio Totti non c'è Totti non c'è C'è il Sarawi Ma che me frega a me le Sargi C'è Lorenzi Lorenzi amore Io non conosco nessuno Neanche io Totti non c'è 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 Come siamo vestite? Benissimo direi, non si vede un tubo Oh, non mi comprendo Che bella questa luce Adesso mi tranciano via in basso Andiamocene presto L'indirizzo è Milano Beh, scusate, Milano La Marta è impegnata Però sono scomoda Guarda che questa cosa sarà acceda Io non riesco a guidarti il cappellino Allora lo devi mettere sulla mia testa Ma mettiamo la musica figa Attacca il tuo telefono Eh, ma io ho poca musica Però è bello il mio colore di capelli Che se solo avessi capito Che era tutto sbagliato Che cercherai Che aspetterai Prendimi le mani Prendimi le mani Prendimi le mani Adesso ascoltami perché Stanco, spento, finto E tu sai mentire Tu È la seconda volta in vita mia Che guido a Milano La prima volta è sempre stata Con la Wawa Veramente Cioè Dopo l'idroscala Proteggiti da me Da me Se sai come fare Stiamo alla ricerca Della macchinetta Per pagare il parcheggio Ma Non c'è Non c'è Cioè Come pensano che Che possa pagare una persona Non lo so Pagherà mettendo i due euro Davanti Esatto Sono para prezzo Ma la prezzo Allora Siamo appostate All'hotel della Roma E ci sono già I fan di El Sharaou Io sono vagamente Imbarazzanti Ma proprio vagamente Io con El Sharaou La foto ce l'ho già Veramente Si è fermata con me L'ho fermata Mi faccio Stefan Facciamo una foto Certo Stefano Sta confidenza Stefan Si chiama Stamallimando No no ragazzi Stamallimando Cosa dice riguardo? Che ho fatto La foto con Rajon Angolan Ho fatto la foto Con Edin Dzeko Con Struttman Con Con Alison Che è il mio amore Noi siamo diventate Le nuove fan Di El Sharaou Io purtroppo Non ho fatto la foto Perché Perché Ero troppo emozionata Insomma Non è Ero troppo emozionata Non riesco a stare in seria Ammirevole Io ammirevole Si è fatta coraggio Ed è riuscita Io sempre A farsi la foto Quindi Certo che potevano uscire sotto un lampione Che almeno Il mio profilo Sarebbe venuto anche meglio E niente Abbiamo deciso di concludere La serata in bellezza No Io non ho capito ancora Cosa è questa cosa Però è buona Ok Ciao Marta Ciao Ciao Eh Buono La camera È un alcolico Brindiamo alla Roma Che domani vince Per il Sarawi Per il Sarawi Che domani si vinnerà Eh La speriamo Mi è aggiunto anche Gabriè la giornata Io stiamo facendo tutte le ragazze e anche oggi male? che domani cosa succederà? fai molto, c'è un bacio di ritorno mi eravamo appena preso un drink che si chiama sbagliato sismo ed è tipo lo sbagliato ma voglio il cibo interior Marta che drink hai preso? non lo so facciamo i succo entrambe ciao mamma hai una migliorazione da fare da soli ne avrai tante ma che consigli da fare c'è? questo c'è l'altro siamo al charawi e niente con questa manovra di parcheggio e le gocce di pioggia in faccia finisce questo video mentre lui fa la manovra cosa che devo lasciare? un mi piace un mi piace un pollice in su e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao